C'è la crisi in Russia e tutti aspettiamo il parere di Dario Fabri. Perché accade? Se la popolazione russa, ed è ciò a cui Putin fa riferimento nel suo discorso, percepisce gli insorti come sostenuti dall'Occidente, è un gravissimo danno per l'insurrezione. Si chiama Eureka Effect. Eureka viene dal verbo greco eurisco, che vuol dire trovare, ed è quel fenomeno per cui noi improvvisamente troviamo una soluzione a un problema. È un pensiero che si dice in gergo out of the box, cioè al di fuori della scatola. La capacità di Dario Fabri è quella di pensare al di fuori delle linee convenzionali di pensiero, questo anche grazie alla sua grande conoscenza della materia. E quindi ci porta a generare per noi un Eureka Effect, cioè noi ascoltiamo Dario Fabri e alla fine esclamiamo ho trovato, un po' come Archimede nell'antica Grecia. Secondo motivo è la Source Credibility Theory, ovvero una teoria per la quale l'autorevolezza di un personaggio porta il suo messaggio a essere più persuasivo. Questo si basa su tre concetti importanti, l'affidabilità, l'attrattività e l'autorevolezza. Come si generano queste tre variabili? Attraverso la continuità. Dario Fabri per giorni, per mesi, è entrato nelle nostre case attraverso le dirette sulla guerra in Ucraina e ha acquisito attraverso la ripetizione e le sue competenze quell'autorevolezza che ci porta a strutturare questo effetto, Source Credibility Effect per l'appunto.